Durante la malattia del marito e sotto la sua guida, Sara aveva fatto molte sedute di telescrittura che aveva interrotto dopo la morte del marito. Poi una sera, nel trigesimo della sua morte, sentì dei forti crampi al braccio destro e non poteva rifiutarsi dallo scrivere senza avere il tempo di pensare. Torturata dai crampi, ricevette questa comunicazione. Sara, il tuo stato d'animo è per me molto avvilente e non per la causa che l'ha determinato ma perché ho compreso l'inefficacia di tante parole che ti ho trasmesso con grande amore nella certezza di porgerti un aiuto almeno spirituale. Conosco bene le tue traversie. Grazie. 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 Grazie.